In questo video spieghiamo perché l'ipotesi quantistica spiega l'effetto fotoelettrico che vedete in questo filmato. Questa moneta vicino al bordo del tavolo rappresenta un elettrone legato a un atomo. La distanza dal bordo rappresenta l'energia di legame. Un elettrone molto legato si rappresenta con una moneta lontana dal bordo, poco legato con una moneta vicina al bordo. Un fotone giallo è una particella poco energetica che rappresentiamo con una moneta da 5 centesimi. Se questo fotone urta l'elettrone non riesce a liberarlo perché non riesce a trasferirgli la sua energia. Tra l'altro scopriremo che l'energia di legame degli elettroni in un atomo è quantizzata, quindi il fotone che urta l'elettrone neanche lo avvicina al bordo. Semplicemente lo lascia dov'è. Un fotone blu invece ha un'energia abbastanza alta e lo rappresentiamo con una moneta da un euro. Se questa moneta colpisce l'elettrone lo spinge al di là del bordo del tavolo e lo libera dall'atomo. In un disco di metallo ci sono milioni di miliardi e di miliardi di elettroni. Illuminarlo con una luce blufioca equivale a fargli piovere addosso fotoni di energia sufficiente a liberare elettroni sì, ma pochi come gli elettroni che quindi si potranno liberare. Se invece lo illuminiamo con una luce intensa, sul disco finiscono tanti fotoni che possono liberare altrettanti elettroni e l'effetto è più intenso.